Un saluto a tutti i telespettatori. Continuiamo questo nostro viaggio all'interno della tipologia di accertamenti induttivi e vediamo oggi un aspetto che secondo me è molto delicato e rispetto al quale è molto più complesso difendersi che è quello relativo all'accertamento induttivo per la media delle percentuali di ricarico sui prodotti in vendita. Cioè che succede? Nel momento in cui arriva la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate nel fare un accertamento, fatta una valutazione sui ricavi in relazione ai costi, perché ovviamente se non c'è una proporzione tra le due situazioni si ha una situazione di anti-economicità dell'impresa che già di per sé stessa determinerebbe la possibilità per il fisco di emettere un accertamento di carattere induttivo, perché si presume che l'attività di impresa sia esclusivamente finalizzata alla costruzione del lucro. Uno degli elementi sui quali si basano queste tipologie di accertamenti sono la media ponderata dei prezzi di mercato rispetto alla zona di riferimento e rispetto al settore merceologico. E' ovvio che questa tipologia di accertamenti si fonda su un regime di carattere presuntivo, però parte come sempre da un fatto certo, per arrivare ad un fatto incerto, che è la posta extra contabile che accertano. Volevo sotto questo profilo segnalarvi un paio di pronunce della Cassazione che hanno messo in discussione il fenomeno, se non è ancorato ad altri presupposti che devono essere trovati all'interno di quell'attività, una irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o situazioni simili. La Cassazione, con una sentenza del 2008 che però è stata molto incidente, che era la 25.200, ha stabilito le percentuali di ricarico elaborate dall'amministrazione non costituiscono di per sé un fatto noto da cui si possa dedurre il fatto ignoto costituito dal reddito d'impresa, con prova contraria a carico del contribuente. E' infatti necessario che le percentuali di ricarico siano ancorate a specifiche circostanze che possono far presumere l'omessa dichiarazione di corrispettivi. E' ovvio che nel momento in cui si stabilisce che il negozio accanto o che la zona determinava un prezzo superiore, è ovvio che il contribuente si può difendere sostenendo che ha fatto un target con un'incidenza maggiore di guadagno al fine di entrare nel mercato in un momento specifico di crisi e di difficoltà. La monaltra pronuncia ancora più rilevante che la 28.90 del 2013 ha stabilito che la pretesa era reale, determinata a seguito di un accertamento analitico e induttivo, è da considerarsi legittima a condizione che la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e la caratteristica dei beni venduti, sicché qualora il contribuente contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'amministrazione alla luce dei canoni di coerenza logica e congruità, tenendo conto della natura dei beni merce, nonché della rilevanza dei campioni selezionati e la loro rispondenza al criterio di media prescelto. Esempio, se io ho nel negozio diverse tipologie di marche, alcuni segmenti più elevati e alcuni segmenti più bassi, è fisiologico che la media ponderata deve essere costruita in maniera differente rispetto alla singola tipologia dei beni. Concludendo, anche qui la costruzione del fatto da parte dell'Agenzia dell'Entrato e del Lavoro di Finanza è fondamentale e una difesa adeguata consente di smontare questo percorso, perché nel regime delle presunzioni, se io dimostro il contrario, l'onere della prova viene nuovamente ribaltato sul fisco che deve avere elementi certi per accertare. Domani vedremo le plusvalenze da riedificabili, ci sono delle novità legislative importanti sulle quali il fisco non si sta adeguando. Un saluto, vi aspetto domani. Un saluto, vi aspetto domani.